Napoleone Bonaparte mescolava così le carte. Lo sappiamo perché a raccontarcelo è il Card College del Settecento. Questo si intitolava Le nuove ricreazioni fisiche e matematiche ed era stato scritto da Guillaume. Il miscugno era molto semplice e consentiva di presentare svariati giochi di prestigio. Ecco come funzionava. Staccate le prime due carte dalla cima, se ne portavano due sopra e tre sotto, 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 fine esaurimento del mazzo. Se ora utilizzate dei cartoncini che riportano delle lettere, oppure un mazzo alfabetico, potete fingere che le carte siano ben mescolate, eseguire un ulteriore miscuglio e, una volta stese, mostrare che è apparsa una parola. Poiché vuol far apparire la parola Costantinopoli, che è lunga 14 lettere, Guillaume prende 14 carte, le numera da 1 a 14, ed esegue un singolo miscuglio. Al termine trascrive su un foglio la nuova sequenza assunta dalle carte. E dunque 13, 14, 8, 9, 3, eccetera. Poi trascrive sotto ogni numero una lettera della parola che vuol far apparire. Nel mio caso, io ho utilizzato i miei nome e cognome. Il passo successivo consiste nel riordinare i numeri, mantenendo le associazioni numero-lettera. Così facendo, si forma una nuova sequenza di lettere. Seguendo la sequenza in rosso, si appoggiano sul tavolo le varie carte nell'ordine. O-T-A-N-O-M-A-R-I-T-I-S-M-E-A A questo punto, siete pronti a presentare l'effetto. Fate vedere al pubblico che le carte sono in un ordine qualsiasi, offritevi di fare un ulteriore miscuglio, e qui eseguite il miscuglio che avete imparato prima. Questa semplice sequenza riporterà le carte nell'ordine che voi intendevate dare loro, e quindi, allargandole, farete vedere che sono apparse le due parole che volevate che apparissero. Mariano Tomatis Quello di Gouillot è un gran libro, perché non mi insegna un gioco, ma un metodo. Una volta che avete capito la logica che sta dietro questo effetto, voi potete far apparire sul tavolo una qualunque frase, un qualunque nome, un messaggio di auguri. È sufficiente seguire i vari passaggi logici che lui ha seguito per far apparire la parola Costantinopoli.